Sale a 33 il numero dei cavesi che hanno contratto il coronavirus. Nelle ultime ore infatti è giunta la notizia di un tampone risultato positivo al covid-19. Si tratterebbe di una dottoressa in servizio all'ospedale di Battipaglia. Anche in questo caso sono stati attivati tutti i protocolli del Dipartimento di Prevenzione Epidemiologica dell'Asl. Sì, abbiamo un nuovo caso di covid-19 nella nostra città. A fronte di numerosi tamponi che sono arrivati tra venerdì, sabato e domenica, più di 30 tamponi, abbiamo registrato un primo caso che già avevamo anticipato in qualche giorno scorsi. È un caso ex novo che va ricostruito soprattutto per i contatti che questo caso ha avuto fuori dalla città di Cava di Tirreni. Il numero complessivo di 33 persone positive al coronavirus tiene conto anche dei 6 decessi e dei 5 guariti clinicamente. Per cui in questo momento stiamo gestendo, diciamo così, 22 casi di coronavirus, di cui 6 in ospedale i restanti in abitazione. Questo è il quadro di sintesi in questo momento. In più ci sono più di 100 persone che sono sottoposte alla sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di Prevenzione. Molti di questi casi sono persone che non hanno mai presentato nessun sintomo, ma vengono da fuori e quindi automaticamente sono stati collocati prudenzialmente in isolamento fiduciario. Altri invece che presentano alcune sintomatologie e che sono tenuti in stretta osservazione e in stretto monitoraggio. Sono attesi altri tamponi oggi, sono attesi gli esiti di altri due tamponi che sono il frutto dei tamponi che abbiamo fatto, chiesto. E credo che stamattina la squadra bravissima di medici che si sta occupando di fare i tamponi, tra cui c'è anche un medico di Cava di Tirreni, farà altri tamponi perché altri tamponi sono stati chiesti dal dottore Balte. Intanto l'unità di crisi della Regione Campania nella serata di ieri ha comunicato il dato dei test da Covid-19 effettuati nei diversi ospedali della Regione. Su 1.324 tamponi analizzati, 99 quelli risultati positivi. All'ospedale Ruggi di Salerno invece, su 251 tamponi esaminati, soltanto 15 sono risultati positivi al Covid-19. Pediatra di Cava di Tirreni in servizio presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, positiva al tampone per il coronavirus, chiuso il reparto del nosocomio della Piana del Sele. La temporanea sospensione delle attività è stata comunicata stamane dal direttore sanitario Mario Minervini all'ASL Salerno, alle unità operative del presidio ospedaliero, alla centrale operativa del 118 di Salerno e Vallo della Lucania e alla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Sono vietate tutte le attività pediatriche, inclusi gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri di piccoli degenti, ad esclusione di codici rossi ed emergenze urgenze. Si apre adesso la necessità di sottoporre a screening tutti i medici e i sanitari del reparto e i loro relativi presunti contatti. Con grande senso di civiltà, i cavesi hanno superato egregiamente la prova di Pasquetta e sono rimasti a casa in ottemperanza alle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 e quanto emerso dallo straordinario impegno delle Forze dell'Ordine che sin dalle prime ore del mattino di lunedì 13 aprile, anche con l'ausilio del drone della protezione civile che ha sorvolato i punti strategici della città, hanno perlustrato in lungo e in largo Cava dei Tirreni. Per entrare un po' nel dettaglio, posti di controllo sono stati effettuati alla Badia, alla Serra, al Parco di Dieci Mare, ad Alessia, a San Martino e al Contrapone, mentre pattugli itineranti hanno verificato il rispetto delle regole su tutto il territorio e volontari hanno presidiato i boschi. Oltre all'impegno della Polizia Locale e della Protezione Civile dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, hanno fornito un prezioso contributo l'Associazione Nazionale Carabinieri, gli Ispettori Ambientali e l'Associazione Europea Operatori di Polizia. Anche in costiera amalfitana a Pasquetta non si sono registrate particolari infrazioni. Assortito gli effetti sperati, il massiccio sforzo volto a presidiare i varchi d'accesso alla Divina. Inoltre, i comandi di Polizia Locale di diversi comuni hanno tenuto d'occhio le aree montane, servendosi dei droni, mentre le motovedette della Guardia Costiere e della Sezione Navale della Guardia di Finanza hanno controllato le coste. Sulla vicenda del licenziamento dell'infettivologo, il dottor Luigi Greco diventa doverosa un'ulteriore riflessione da parte dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, a pochi giorni dalla notizia dell'allontanamento dall'ospedale da Procida del noto professionista, 71 anni in pensione, che aveva accettato con un rientro in campo di mettere al servizio la sua professionalità. Dopo essere stato richiamato in un momento così difficile di emergenza, il presidente dell'Ordine dei Medici e D'Odonto Iatri della provincia di Salerno, il dottor Giuseppe D'Angelo, ha fatto appello ai vertici aziendali a fare una riflessione. Questo perché giusto si legge in una nota che prevalga il bene dei pazienti rispetto ad un contrasto di opinioni doverosamente riassorbibile attraverso un sereno confronto. È un momento particolarmente difficile per la nostra comunità e pertanto è nostro dovere far prevalere le ragioni del bene comune sull'istintiva ricerca delle ragioni dei singoli. Il nostro caro e stimato collega, scrive il presidente dell'Ordine dei Medici D'Angelo, con la ben nota verba che ha sempre contraddistinto i suoi interventi, ha forse inopportunamente manifestato la non condivisione di alcune strategie dell'azienda, proprio quella che, pur consapevole della sua storia professionale di altro profilo, ma incline alla libertà di pensiero, lo aveva voluto, da pensionato a rischio, reintrodurre nell'iter organizzativo e scientifico del progetto Covid-19, anche a dispregio della sua stessa vita. Anche i delegati aziendali delle organizzazioni mediche hanno manifestato la loro vicinanza, al dottore Greco, esprimendogli la più totale solidarietà, condannando fermamente la condotta delle direzioni dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, che a giudizio dei sindacati dovrebbe almeno sentire la sensibilità di porgere le sue scuse per l'atteggiamento incomprensibile assunto nei confronti di un collega, la cui professionalità è indiscutibile, prima richiesto e poi dagli stessi allontanato. Pur essendo il migliore, non ha fatto mai carriera, scrivono i delegati sindacali dei medici, proprio per il suo amore per la verità, senza limitazioni o condizionamenti. Non sarebbe più utile all'azienda e ai pazienti, invece di procedere a vendette personali, ascoltare i tecnici che lavorano sul campo e chiedersi se forse costoro ne sanno di più di chi i reparti li vede solo sulle carte, pensare di lasciare i Ruggi, sede di pronto soccorso Covid, reparti Covid e di una rianimazione dedicata che può raggiungere 24 posti letto, oltre le normali attività cliniche non Covid, senza il reparto di malattie infettive e pura follia. Non può bastare un'attività di consulenza mattutina, lasciando il resto della giornata scoperto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.